Benvenuti a Nino Shmueli, vicepresidente della 470 class associazione, benvenuti in Formia, Nino. La tua prima impressione del venue e dell'organizzazione della championship? Penso che abbiamo avuto il primo giorno che sono le condizioni perfette sul luogo, e credo che tutti i venditori sono molto felici con la gestione del corso e l'organizzazione. E spero che abbiamo avuto le stesse condizioni nei prossimi giorni. È un anno speciale per la 470, perché è il 50 anniversario della storia della classe. Hai alcuni programmi importanti per la World Championship in La Rochelle. Che succede? Come si succede? Ci sono due settori in La Rochelle. Abbiamo 3 principi eventi. Abbiamo i nostri amici, i nostri amici, e poi abbiamo la città della guerra. Inoltre abbiamo alcuni eventi che ci accendrano il 50 anniversario, con i 470 anni. Abbiamo il Trophy legenda, con tutti i nostri amici. Abbiamo un libro di 50 anniversario, che sarà pubblicato in queste occasioni. Abbiamo un gala-dinnero nel 3 augusti, con circa 1.000 persone. E' un'altra parte di questo. E' un'altra parte di questa esperienza. È un anno esperimentale per il formato della regatta. Cosa succede? Cosa succede con la classe e l'ISAF? Sono parte dell'ISAF. Quindi ho lavorato con l'ISAF, con la classe olympica, su un formato reale. and still we are trying to find out what is the best format for the sailors and that's mean that we want to have much more short races in one hand in the other hand we need that the races will be fair for the sailors and that we will not lose you know the spirit of sailing like tactics and techniques and we want to bring sailing more close to the shore with more spectators so what we are trying we are trying to change a bit the format we start making the trials in Miami Sailing World Cup then in Palma and here and then each of the classes is doing it in November ISAF will make the final decision and then we will follow this especially here we made some changes in the format that we have two days of qualifications for the men as we have two fleets and after the two days they are carry forward not the points but the ranking position for the final not discardable and then we have six races in the final and then a medal race by carry forward the points so it's a little bit different and we are checking it during the week we will ask all the sailors for a questionnaire about their opinion and then we will forward all our thought to ISAF thank you very much fair wins good work thank you thank you and hope for me we'll have much more event because I think it's a wonderful place thank you thank you Nino bye bye thank you